Ad Anamorphosis si ricreano gli scenari dove sono morte delle persone per poi evocare gli spiriti dei defunti. Tutto questo per creare un concorso a premio organizzato da un eccentrico ricco dove gli sfidanti dovranno cercare di resistere per 48 ore per poter vincere il premio di 60 milioni di yen. Una storia horror con elementi sovrannaturali abbastanza classica con un bel colpo di scena, ma più che la storia principale ho apprezzato le varie storie brevi molto più nello stile di Shintaro Kago. Come quella di una scuola dove tutti i professori e gli studenti sono degli kikomori trasformati in ammassi di carne, oppure quella di una vicina un po' troppo strana che nasconde un segreto, oppure quella di un uomo con il potere di cambiare le vite precedenti delle persone che userà per fare soldi. Come al solito c'è molto erotismo e tante scene grottesche. Meno estremo di altre sue opere, ma comunque è un volume interessante e che mi è piaciuto. Ciao a tutti e love manga!